Sono 46.000 in più negli ultimi cinque anni le imprese create da stranieri nel nostro paese, una presenza sempre più stabile che fa da contraltare al calo delle aziende di italiani, che fanno segnare invece un calo del 2,3%. È quanto emerge dai dati del registro delle imprese e delle camere di commercio riferiti al periodo 2018-2022, elaborati da Union Camere, Info Camere, sulla base di Movi Imprese, l'analisi statistica sull'andamento della demografia delle imprese italiane. L'imprenditoria di origini straniere è da tempo un dato strutturale del sistema produttivo italiano. Alla fine del 2022 le imprese con una prevalenza di soci o amministratori nati al di fuori dei confini nazionali sfioravano le 650.000 unità, poco più del 10% dell'intera base imprenditoriale del paese, appena sopra i 6 milioni di unità. Tra i due universi restano ancora profonde differenze strutturali. Tra le straniere, la forma largamente prevalente, resta ancora quella dell'impresa individuale. La seconda modalità organizzativa preferita dalle aziende è quella della società di capitali. Sebbene la loro presenza sia decisamente più numerosa tra le iniziative di italiani, dove superano la quota del 32%, negli ultimi cinque anni si segnala una marcata vitalità tra le forme di impresa di origine straniera.